Questo è Luigi. Luigi spesso deve fare spedizioni internazionali per la sua azienda, ma non sa quale possa essere la soluzione più rapida, economica e sicura e non ha molta familiarità con le procedure burocratiche. Per spedire la merce ai suoi clienti, come il signor Quang della China Enterprise, Luigi si affida a società che forniscono servizi di logistica, ma spesso queste offrono soluzioni complicate e costose, così i suoi clienti devono aspettare tempi interminabili e i costi di spedizione aumentano drasticamente. Luigi è bravo nel suo lavoro, ma sta perdendo clienti a causa delle lunghe attese e dei prezzi esorbitanti. Ecco Macros. Macros è un'azienda di spedizioni internazionali consolidata negli anni, che offre servizi di logistica via aerea, mare e terra, che utilizza una fitta rete di corrispondenti in tutti i continenti al fine di offrire le migliori rate e rese. In più, Macros lavora con vettori autorizzati, agenti doganali accreditati, garantendo zero difficoltà burocratiche, un trasporto veloce, più la sicurezza e la gestione completa di tutti gli aspetti doganali. Con Macros, la merce di Luigi può ora arrivare a destinazione in modo veloce. E ad un ottimo prezzo, così i suoi clienti continuano a raccomandarlo e la sua azienda continua a crescere. Per spedire la merce velocemente ed in modo sicuro, come ha fatto Luigi, contatta Macros adesso e guarda la tua attività prendere il volo!